al free program perché ha avuto proprio un problema al ginocchio subito dopo lo short adesso lo vediamo qui, bisogna dire che i francesi hanno fatto delle buone prestazioni Shafik si è classificato con il diciottesimo punteggio dello short program 70 e 27 sia Shafik che Amodio hanno dovuto fare una selezione, un controllo per poter passare ad essere poi selezionati per il mondiale un patinatore esplosivo dalla grande energia quadruplo tolup, triplo tolup solamente doppio il secondo quadruplo tolup programmatico triplo lutz grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti. Triplo axel con step out. Secondo doppio axel in combinazione con doppio troll loop, doppio loop. Triple flip, doppio troll loop. Triplo salco. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Noi purtroppo stiamo già vedendo, dico purtroppo perché ci sono ovviamente dei problemi sulla sua scheda, perché Shafik ha fatto l'errore di ripetere, adesso poi vi lo spiegherà nel dettaglio, Fabrizio Pedersi, una volta semplice ma due volte nella combinazione. Sì, il problema... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.